La tana del frerito Ciao Broderigno Te lo dico adesso Se vuoi vuoi fare anche tu uno scherzo così Va bene, grazie Ma io gli scherzi non li so fare La cosa divertente è che io avevo un generatore di immagini Casuali, no? E io praticamente dovevo fare uno scherzo E dovevo collegarmi in continuazione alle immagini che uscivano Bello Ma io comunque non ce la faccio No, sai un bello scherzo di telefoni? Prendere due telefoni Ah, vabbè, però così è Cioè, nel senso, vabbè Cioè, è molto fine se stendo Non c'è bravura Perché fanno tutte e due Pronto? Chi è? No, mi hai chiamato tu Mi hai chiamato tu Eh, bello Però, fa una volta Fine del gioco No Ragazzi Vi prego, bellissimo Sembra di essere tornato ai tempi che furono Allora qua, disponibili pavoni Eccoli qua Numero di telefono No, a me se mi ricordo ancora come si fanno gli scherzi, eh Non può prendere la mano Come dice Che è che lo diceva Michael Jordan? Vediamo se mi ricordo come si fa Pronto? Eh, si salve Eh, la sto disturbando Mi scusi per l'orario Ho letto il suo annuncio su un sito No No, no Ok, perfetto Ho visto l'annuncio per i pavoni Sì Ok, ok Io avevo intenzione di Perché praticamente sto creando un nuovo giardino Nella quale ci sarà molta acqua, no? Attraverso della Insomma È un impianto idraulico molto particolare Che praticamente prende tutto il lago di Zeo Non so se è presente dove si trova Sì Eh, praticamente io avrei bisogno di questi animali Perché in qualche modo vorrei crearci un acquedotto Eh, per poi andare a incanalare appunto gli animali E farli stare lì un po' Tipo natura viva Ok, volevo chiedere Questi pavoni qua, innanzitutto Sono amichevoli Come può essere un gatto Cioè, che tipo di carattere hanno? Sì, no Per quello sono Sono animali tranquilli Che non hanno problemi a socializzare Ecco quello Ah, ok, perfetto Quindi diciamo che non è che sono Sono come dire Come delle grate Che ti fanno a rodere Insomma A levigare in qualche modo No, no Non sono le migliori Ah, ok, ok E quanto vivono questi pavoni? Quanto tempo hanno? No, più di un cane sicuramente Ah, ok Ma per caso Magari non vorrei chiedere Non vorrei essere indiscreto Ma soffrono per caso Di qualche malformazione Perché adesso non vorrei ovviamente Perché comunque È la prima volta che mi Che prendo un pavone Quindi non vorrei Insomma cadere come dopo un nolli Ma loro hanno problemi Sono abbastanza Sono provando problemi Quando sono piccoli Ah, ok Ma quanti Ok, ok Ok, ma nel senso Hanno mai Cioè non sono mai finiti In... Cioè perché non vorrei animali rissosi In qualche modo Cioè non vorrei trovarmi Come in un wrestling No, no Quello non sono come i galli Che litigano un po' di lontano Ah, ok Ok, perfetto Ma per caso Ma per caso non ho delle zampe No, volevo chiedere Se avessero per caso Del pelo E se in qualche modo Fossero diciamo affini A quello che Insomma Il 2022 Ovvero Avessero delle unghie Che in qualche modo Vanno a essere Abbastanza colorite No Ok, perfetto Perfetto Allora no Mi fa piacere Parlare al telefono Perché Diciamo che soprattutto Immagino che lei In questo momento Abbia anche uno sfondo naturale Abbastanza imponente Quindi Immagino Lei vive In una bella bettola Ma Nel senso L'importante è comunque Essere come un Carlino che vola Ma Il discorso è Lei dov'è in questo momento A livello Cioè nel senso Cioè questi pavoni Dov'è che li potrei venire A prendere Cioè li potrebbe spedire O li dovrei venire a prendere Io personalmente No Assolutamente Io non spedisco Un bel niente Ok, è giusto Non è un pacchetto Che si può spedire Beh certo Sì Non è Non è effettivamente Un'ameba Che può Può viaggiare Insomma Come due ragazze Su una Su una macchina di merda Ma Il discorso è Vabbè Vabbè Adesso mi sembra un po' Dai Ne parliamo bene No, no, no Volevo chiedere L'ultima 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 informa Zio Quanto è divertente Zio Allora È divertentissimo Cioè ragazzi Questo dovrebbe sostituire L'entrare nelle dirette Cioè questa dovrebbe essere Una cosa che fai sempre All'inizio delle live Due o tre Ne facciamo farne uno tu? No, io non lo so fare È il mio bisogno Facciamo l'ultimo Però mi raccomando Zio Ma sì dai Così è super chill Dai La cosa importante È che tu non dai troppe informazioni Che possano risalire a chi è No, no, certo Assolutamente Vediamo un Un maiale Maialina nana No, se riusciamo a questo maiale Cioè quello che chiama il maiale Ma cos'è? Non lo so Ah è una mano con la spada No Ma un piede No Un piede Pronto? Sì pronto Salve Allora innanzitutto Vorrei scusarmi per l'orario Perché effettivamente Non è molto corretto Ma in questo momento Non so se mi sente Scusi? Sì la sento Ok perfetto Sono un attimo in una galleria Quindi non so se mi può sentire Io ho visto l'annuncio Che ha messo sui maiali E praticamente vorrei Avere un animale da compagnia Perché in questo momento Mi sento un po' un ragazzo solo Quindi vorrei avere una compagnia Sono degli animali Che possono essere da compagnia O diciamo sono solo bestie Ma c'è E no vorrei tenerli Vorrei tenerli direttamente in casa Perché poi io vivo in un posto Dove ho di fianco un impianto elettrico E quindi diciamo che Ho molti disturbi Dal punto di vista Di suono attorno Quindi vorrei sapere Anche se insomma il maiale Sia un animale Particolarmente sensibile Perché c'è veramente Un sacco di elettricità Ma quello deve essere Una cosa sua Io non gli saprei Ok Ok chiaro Ma nel senso Perché io vorrei comunque Un animale che sia anche Particolarmente cordiale Cioè adesso non dico Che deve la mattina Sorridere a un balcone Insomma Però comunque Vorrei che in qualche modo Abbia anche delle Capacità magari aerobiche Importanti Che insomma Sia come un bambino Che esca fuori da un tronco Mentre guarda Delle paperelle Che sono in un Vicolo Diciamo Tutto ciò ovviamente In un impianto Audio E' andato in bag E' tutto un paradosso Sono solo un pazzo Quest'amore so che sparirà Ora non mi muovo Ma nemmeno stacco Canto il sole Faccio un naranà Ma non posso fare Poi le cose Si quelle che dici Ma come possiamo fare Grazie a tutti